Oggettini per la casa, profumi, prodotti enogastronomici, libri e smartphone. Ecco cosa hanno regalato per questo Natale i potentini ad amici, familiari e fidanzate. Allora a lei ho comprato un iPhone 14, quindi un nuovo telefono e basta. Io invece sono andata sul genere musicale per lui, quindi qualcosa che gli piace so che accetterà sicuramente. A questa Natale abbiamo preferito regali mangerecci, quindi siamo andati biscotti, bottiglie di vino, cioccolatini soprattutto. Agli adulti. Agli adulti. Ai bambini libri, bambini e ragazzi tanti libri. Allora per i miei genitori ho scelto per mia mamma un profumo e per mio padre una sciarpa. E per i miei amici invece dei pensierini così. Un'ottima guida a Slow Wine, ai miei amici che da oggi vogliono iniziare a scoprire il mondo del vino e a conoscere l'eccellenza di questo territorio che va rivalutato e valorizzato soprattutto a partire dall'enogastronomia. A lei gli ho fatto tre regali, però è meglio che non lo dico perché è una sorpresa. Poi a mia madre ho fatto degli orecchini e le mie cognate ho regalato un anello a testa. E poi un banettone per tutta la famiglia. Una tazza, delle calze, qualcosa così per uso in casa. Io ho scelto per esempio un pallone da calcio per il mio amico che mi piace molto il calcio e sapevamo che l'avrebbe scelto. Io invece ho delle collane e degli oggetti, per esempio orecchini oppure anche anelli che sono molto carini e piacciono anche alle ragazze.